Che emozioni stai provando? Che emozioni hai provato dal triplice fisco dell'arbitro? Le emozioni ho provato tutte dentro al campo, ho cercato di interpretare più roli possibili, pure quella tra virgolette del tifoso perché cercavo... Abbiamo visto fomentare la forma. Volevo fomentare tutti proprio perché loro ci dovevano spingere, fino alla fine ci dovevano spingere, quindi è stato bello così, dai. Fino alla fine è stato bello così. Seconda promozione in Serie A per te con il Frosinone, qual è stata la più bella? Questa senza ombra di dubbio. No, la più bella rimarrà sempre quella della Serie C. Quella della Serie C è stata una cavalcata che poi ha dato in là a fare tutto questo, anche lo stadio che noi allenavamo qua che era praticamente un pantano e oggi invece c'è un grande stadio. Quindi siamo soddisfatti, contenti e tutto quello che si può avere in questo giorno. Forse la migrazione.